Figlia dello speaker e giornalista Rai Riccardo Paladini, Roberta ha esordito a 16 anni sotto la direzione di Lauro Gazzolo nel ruolo di protagonista, doppiando il personaggio di Pinocchio nel lungometraggio animato Un Burattino di nome Pinocchio, diretto da Giuliano Cenci, ha dato la voce anche al personaggio della Pimpa. Tra le attrici che ha doppiato, Yodie Foster, Demi Moore, Madeleine Stowe, Isabella Rossellini, Jane Seymour, Rosanna Archette e Michelle Pfeiffer, inoltre è anche la doppiatrice del personaggio di Lynette Scavo nella serie televisiva Desperate. Ausweave, del personaggio di Daniel Russo nel serial Lost, del nipotino di Paperone Quo nel cartone animato d'Actaless e di Gillian Foster nella serie Li Tu, Me U.